Buongiorno a tutti da Arpapi, questo è il mezzo di locomozione della nonna. Guardate già com'è bella, pronta, stamattina dove devi andare, nonna, devi andare alla... Come? Dove devi andare stamattina con questo? A le poste. A le poste, perché devi andare a prendere i sordi, i sordi. E questo qui, quando tu vai con questo, che succede? Mi fanno entrare. Le fanno entrare subito, e allora? Ma me lo presti a me qualche giorno, sto carello, così ci ricondivano le poste e mi fanno fare pure... Cominciamo, c'era una telefonata sotto, quindi quando vai con questo, vai dritta. Vediamo un pochettino la nonna come va, guarda che spettacolo, e l'abbiamo riportata a casa. È passato il Natale, tutto a posto, Santo Stefano, siamo stati bene, un bacetto. Ecco, e l'abbiamo riportata a casa, a me, e l'abbiamo riportata a casa, questa è nonna Angela. Angela.